Ho trovato delle paure meravigliose, senti questa, questa è una paura che a me fa molto ridere perché, vabbè perché sono di Genova e ora vi spiegherò, è la prosofobia, che è la paura signora del progresso, c'è gente che ha paura del progresso, ora se considerate che io sono di Genova, ora Genova non so se lo sapete, ha la più alta percentuale di persone anziane in Italia, ora, tenendo presente che l'Italia è il paese più vecchio dell'antico continente che è l'Europa, ti puoi immaginare chi cazzo gira per strada a Genova, perché chiaramente il prosofobico è un vecchio, sono quei vecchi rompicoglioni, sai, Genova è contro qualsiasi tipo di progresso da sempre, ci abbiamo messo a vent'anni per fare la metropolitana, avevamo già le gallerie, te lo giuro, c'erano già, ci hanno messo a vent'anni a fare, è gente che se passa e vedono uno scavo, che cazzo è che è un belinano lì? No, è la fibra ottica, ma non ci rompe dei coglioni, è gente così, sono cattivi, tra l'altro i genovesi, i vecchi, sono cattivi signora, sono delle merde, ma io lo dico con serenità perché anche io diventerò una vecchia merda, sono cattivi, ho visto un vecchio dar da mangiare ai piccioni, sai il seme, così, mangia, cattivi come aglio, sono terribili, e sono i prosofobici appunto, sono quelli che proprio detestano il presente e guardano nostalgicamente il loro passato e pensano che sia migliore solo in virtù del fatto che sono vecchi, capisci? Sono quelli che ti dicono, ai miei tempi si stava meglio, non c'era tutto sto casino, tutta questa macchina, stava smog, signora, ai miei tempi si camminava, lo capisci? Io una volta in tempo di guerra ho fatto Genova, Livorno, a piedi e non ci dovevo neanche andare a Livorno, sono i prosofobici. Senti questa, questa è bellissima, aulofobia, che è la paura, l'aulofobia è la paura dei flauti, sai il flauto, quello in legno, non del sax che se te lo tirano, no del flauto in legno, quello delle medie, ma come cazzo fai ad avere paura di uno strumento del pifaro, ma come fai? Mi ha detto, ma chi è che può avere una paura del genere? Ho cercato di immaginarlo, ho pensato a uno così. Quando ho fatto il militare nell'Arturo Spinaccini di Pordenone, facevo parte della banda musicale, a un certo punto durante il concerto una folata di vento mi ha fatto cadere gli spartiti, mi sono inchinato un attimo e dietro c'era il flautista, che col flauto così di traverso... No, no, non applaudite, grazie. Senti questa, senti questa, ablutofobia, la ablutofobia che è la paura di lavarsi. Sul 35 c'è pieno, sugli autos c'è pieno, a Genova c'è gente che mi dice, oggi non mi sono sciacquato i coglioni, prendo il 35. Ma io dico, ma anche lì, ma come puoi avere paura dell'acqua, del sapone? Ma cosa ti può spaventare in tutto questo? Che cosa? Ma chi? Chi? E io ho pensato, quando ho fatto il militare nell'Arturo Spinaccini di Pordenone, dopo un concerto eravamo sudati i marci e siamo andati in doccia, mi è caduta la saponetta e dietro c'era il clarinettista. Grazie, troppo buoni, troppo buoni. Senti questa, questa è meravigliosa. La plutofobia, che non è il terrore di un personaggio della Disney, chiaramente, ma pensate, la plutofobia esiste ed è la paura di diventare ricchi. In Italia abbiamo trovato la cura, ma voglio dire, ma chi è che può avere paura di... Ma tu conosci qualcuno che ha paura di diventare ricco, qualcuno che si sveglia, oddio che incubo, aveva una Porsche e un pezzo di figa al fianco, ma quando mai? Casomai siamo ossessionati dal denaro, tutto il contrario. Bene, non pensiamo ad altro. Se vai in un bar, a quarto giaro, così, entri più o meno, prima o poi lo incontri un cretino col negrone che ti dice, Ma te, per due milioni di euro, ti faresti sodomizzare da un sceicco? Ma che cazzo di domanda è? Ma certo! Ma Belì, ma io per due milioni di euro lo vado a prendere lo sceicco! Lo porto in albergo, pago io, mi faccio sbattere come un tappeto, lo riporto a casa e lo rimolo sotto un vischio! Ti amo! No, che poi, parlandoci chiaro, lo sceicco, lo sceicco dopo i soldi, non ve li dà. Lo so per certo. Infatti, capisci, la gente non è ossessionata dal denaro, infatti gioca all'otto perché si ammazzano da ridere quando esce il 47. Si ammazzano di lavoro perché non hanno cazzo da fare e la Pascali sta con Berlusconi perché lo ama! Hai capito? Bolshevicofobia. Paura dei bolshevichi in Italia nel 2016. Tu, a Milano, al 2, non hai mai visto un bolshevico. Ma chi può avere paura dei bolshevichi? Quando ho fatto il militare nell'Arturo Spiracini di Pordenone, abbiamo fatto un campo invernale a Mosca e lì ho conosciuto lui, il sergente maggiore Sergei Sodomovic. Trombettista! Beh, questa è fantastica, questa è meravigliosa, è la mia preferita. C'è gente, signori, che ha paura del silenzio. Non ridere che ti do un pugno, termine di ripresa. Sì, c'è gente, signora, che ha paura del silenzio. Ma se facciamo l'esperienza tutti insieme del silenzio, allora, dai, tossiamo tutti insieme perché... Dai, 1, 2, 3, tossite! Chi vuole scorreggiare, lo faccio, lo attaccia per sé, facciamo il pezzo. Allora, se noi stiamo ben attenti e facciamo l'esperienza del silenzio, scopriamo... scopriamo brevemente che il silenzio appunto non esiste. Il silenzio è una convenzione meravigliosa dell'essere umano per identificare quando noi riusciamo a sentire i rumori minimi. Cioè, per noi, il silenzio, quando siamo in camera, lo abbiamo quando sentiamo le lancette dell'orologio, no? Sei lì? Oppure un mobile che cigola, sai? E tu hai paura perché sei da solo in casa e la sera prima hai visto l'esorcista. e pensi che casa tua sei indemoniata. Ti alzi dal letto e vai alla porta. Chi c'è? Chi c'è? Ah! Meno male, è un ladro! Ora, quando capita a me, spero sempre che casa mia sia infestata dal fantasma di Moana Pozzi. Sì, roba che proprio non riesci a dormire. Basta, Pompini! Purtroppo più spesso accade che casa mia sia infestata dal fantasma di Joan Holmes. Famoso porno diva anni 80. Detto anche mister 35 centimetri, eh! E li son cazzi! Lì non dormi! Continui a cambiare posizione. La mattina avventi sei a 90. La cosa che mi spaventa di più è che dopo aver sognato Joan Holmes sono contento. Ma si sa, noi dell'Arturo Spinacini di Pordenone siamo fatti così!